Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 e poi i fanno i funghi, come c'erano i刀 e gli sono uguali azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.... a desinare... arrivano a desinare e dicevono a parecchia a parecchia... la desinare poi dicevano, un vencano un 7-10 e un 7-10 allora, allora ci sono tutti adesso sono un 20-10 e allora ci sono parecchia gli sparicchon gli sparicchon non ha chiamato la cosa non ha, non ha! non ha mai, mi fa la cosa la mia mia cosa è la cosa è la mia cosa è la mia cosa è la mia cosa è una coppita è una cosa che c'è vero che c'è tu mi hanno andato il pire fai albera assicurata in due euro